Manipolazione ad alta velocità del rachide cervicale medio-basso Mediante la tecnica cradol In questa tecnica l'altezza del lettino deve essere più o meno all'altezza del bacino dell'operatore L'operatore dovrà essere, in questo caso io manipolerò il lato sinistro Dovrà essere rivolto verso il lato opposto Quindi la mia gamba sinistra è leggermente più avanti rispetto alla gamba destra Esporrò il lato da manipolare che ho valutato precedentemente E mi posizionerò con questa superficie Quindi la seconda falange o se scendiamo molto in basso potremmo arrivare anche all'ultima falange O all'interfalangea distale del secondo dito Lateralmente al processo trasverso da manipolare È necessario che le altre dita sostengano il peso di questo dito Altrimenti questo dito da solo verrebbe inclinato lateralmente Quindi le altre dita supporteranno il secondo dito Che è quello mediante cui avverrà la manipolazione Il pollice cadrà sul ramo mandibolare del paziente L'altra mano si posizionerà in corrispondenza della bozza parietale contro laterale Quindi in questo caso lato destro Per cui non sono alla stessa altezza Questa scivolerà più in su In modo da dare sostegno alla testa E questa è posizionata come abbiamo visto in questo modo Eliminando lo slack dei tessuti Pollice sul ramo mandibolare A questo punto l'operatore introdurrà tre movimenti Uno shift postero-anteriore Un'inclinazione laterale con uno shift latero-laterale Verso il lato opposto E una piccola rotazione Se ho fatto bene la mia messa in tensione Il naso del paziente sarà più o meno in corrispondenza della linea mediana Quindi non sarà lì Ma sarà qui Dopodiché la manipolazione sarà una rotazione Vedete? Non un obliquo puro Ma una rotazione verso l'alto Quindi in direzione dell'occhio del paziente Espongo il lato Mi posiziono, eventualmente faccio una piccola rivalutazione La mano è sulla bozza parietale controlaterale Uno, due, tre E la manipolazione è in quella direzione